Le relazioni tra Italia e Russia sono arrivate ai minimi storici. A certificarlo questa volta sono state le parole del direttore del Dipartimento Europeo Alexei Paramonov, figura che dipende direttamente dal Ministero degli Esteri del Cremlino. Paramonov ha infatti espresso preoccupazione circa le ultime dichiarazioni del Ministro degli Esteri francese, Bruno Le Maire, che ha invocato una «guerra totale finanziaria ed economica» alla Russia. Il pensiero di Paramonov è andato così all'Italia, chiedendosi se, anche questa volta, Roma seguirà la logica delle sanzioni. Non vorremmo che la logica del Ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire, che ha dichiarato la totale «guerra finanziaria ed economica» alla Russia, trovasse seguaci in Italia e provocasse una serie di corrispondenti conseguenze irreversibili. Mosca ha così tracciato la sua linea rossa, se l'Italia aumenterà il peso delle sanzioni, scatterà una reazione russa. Di che tipo? La strada ormai tracciata è quella dell'interruzione delle forniture energetiche, tra cui il gas. Paramonov ha voluto però essere ancora più specifico rispetto all'atteggiamento ambivalente avuto dall'Italia nei confronti di Mosca, in particolare durante i primi mesi dell'emergenza Covid. All'Italia è stata fornita un'assistenza significativa attraverso il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Industria e Commercio e il Ministero della Salute della Russia. A proposito, una richiesta di assistenza alla parte russa fu inviata allora anche dal Ministro della Difesa italiano Lorenzo Guerini che oggi è uno dei principali «falchi» e ispiratori della campagna antirussa nel governo italiano.